Tutte le persone vanno a recuperare le storie, che loro vanno a individuare, come vogliono portare la loro storia, totale libertà, io non centro io con quello. Voi fate le vostre scelte, trovate le persone con cui volete lavorare, il profugo o i profughi o che sia, questa è già una decisione che io non mi compete in quel senso. Quello che io posso portare è stabilire delle date per voi, ossia io mi do a disposizione a un certo momento e questo per voi può essere anche uno stimolo, dire ah cavolo c'è questa data, devo andare verso quella data perché mi ritrovo con me, ma non solo con me, ma anche con altri, se spacchiamo il gruppo, sono dieci, cinque, altre quattro persone. L'idea è, io faccio più da telecomando della situazione, anche dico la mia, ma anche voglio che anche gli altri dicono a loro, perché molte volte la ricchezza di queste cose è che quando uno sta troppo dentro la storia o sta troppo dentro uno stesso di quello che sta cercando, certe volte non vede forse le vere potenzialità della sua propria storia, è più facile vedere la potenzialità della storia degli altri, perché logicamente uno è fuori dalla foresta e capisce le forme della foresta, quando uno è dentro a tutti ci capita che dopo la gente viene da fuori e ti fa la domanda banale e dice, ah cazzo, non ci ho pensato, che imbecile, dico io quello agli altri e io non ci ho pensato. Allora questa è un po' la posizione in cui io e gli altri vogliono aiutare, diciamo, ognuno di voi, io con gli altri quattro in relazione al quinto in questo caso, no? E a me, diciamo, mi vedrebbe bene fare una mezza giornata con un gruppo di cinque durante il weekend e dopo un altro, un weekend su seguente, un altro gruppo di cinque. Per dopo, un mese dopo, un mese dopo, dire ok, stabilire degli elementi in cui la storia ancora deve svilupparsi e deve ricercare certe... Grazie mille, ma poi puoi parlare, tanto siamo tre... Sì, no, ma infatti adesso noi ci organizziamo, raccogliamo e vi... cioè ci sentiremo sicuramente via mail, così vi facciamo sapere tutto. Grazie. Più che niente, permettervi a... vuoi avere nuovi stimoli e avere la possibilità di contrastare i vostri propri dubbi e anche le... provare anche ad andare a accelerare il processo di trovare le vostre motivazioni che state... che avete dietro per andare... di fare per questo percorso. Questo è un po' come io nuovamente faccio, diciamo, questo tipo di lavoro. Io lavoro in un programma europeo che è per giovani produttori, ovviamente, da dieci anni e... e generalmente mi ritrovo davanti o dei produttori o anche dei registi in cui con i loro progetti, generalmente, l'idea è provare di dare i stimoli giusti per accelerare il loro processo di consolidazione del loro progetto. Non è la mia visione sul progetto, è più che niente capire la visione che hanno una persona e entrando sulla visione di quello che stanno desiderando di fare, provare di aiutare dagli strumenti per poter raggiungere la loro meta. E allora obbligare la persona a definirsi meglio in quello che stanno cercando. Non è una... siamo un broadcaster che ti dice, no, tu dovresti andare lì e dovresti fare quello... no, questo non me ne interessa. Non è la mia meta, non è... è provare di dare tutti... è capire anche i limiti della tua propria storia e capire in cui forse la tua storia sta andando in una direzione che forse non ti rendi conto che non è quella giusta che tu stai cercando, che forse è un'altra cosa quello che stai cercando. E quello è un po' quello che io provo attraverso domande, attraverso situazione, capire l'anima stessa di quello che stai esplorando. E capendo quello già tutto si semplifica. Allora capendo su quello dopo si va costruendo su quella linea, logicamente, condividendo con la persona, e dopo sempre la persona dice tutto quello che vuoi fare, non c'è niente di... non c'è niente che... alla fine del percorso non c'è niente che io voglio spingere o portare alla persona. Ci sarà forse uno o due paletti, l'importante che prendiamo in considerazione. Allora, quello che io proverò di aiutarvi è a sviluppare la costruzione di quello che lo volete raccontare. Probabilmente quello che volete raccontare può essere di dieci minuti, può essere due ore, chissà. Cinque ore? Cinque ore? Sì, no, sì, è quello che voglio arrivare. È che logicamente, se voi volete raccontare una cosa di lunga, l'idea è dire, ok, questo io vi aiuto a sviluppare concettualmente questa cosa che può essere un'ora, due ore, o che sia. Però, all'interno di questo bisogna prendere cinque minuti. È questo il paletto, l'unico paletto che stiamo stabilendo. Allora, non vuol dire che voi dite, ok, io non potrò più fare niente perché devo solo fare questi cinque minuti. Quello che è importante è aiutarvi a sviluppare un racconto o una struttura che vi permetta raccontare una storia che è importante per voi. Però all'interno di quello, per poter condividere con gli altri, sono cinque minuti che dobbiamo scegliere e che voi dovete scegliere soprattutto.